Allora, buongiorno a tutti, io mi chiamo Massimiliano Malavati, sono ingegnere, opero presso il centro regionale Augini dell'Emilia Romagna, di Bologna e siamo qua in questo sabato mattino, un po' fresco, nonostante la neve in certe zone e altre difficoltà per parlare di un tema che è diventato ormai quasi tradizionale in quale interno di enzimatica quindi siamo già alla terza edizione in cui viene ricavato uno spazio dedicato a quelli che sono i temi delle tecnologie rivolte all'adattamento dell'ambiente. Abbiamo sempre cercato in qualche modo di mantenere un taglio che, visto che la manifestazione biennale riproponesse in qualche modo un po' i temi che negli anni precedenti sono stati più importanti quindi diciamo la prima edizione nasceva dopo il 2003 l'anno della disabilità in cui di domotica si era parlato tantissimo l'edizione scorsa abbiamo cercato di lavorare molto su quello che era stato capire qual era stata quella reale diffusione di queste tecnologie e nei casi reali e quest'anno cerchiamo di dare un po' il taglio che è stato un po' la novità certo in Europa se ne parla da un po' più di tempo, comunque in Italia si è cominciato a parlare molto di questo approccio AAL, quindi Ambient Assisted Living, cioè passare da un fuoco molto sulle singole tecnologie quindi le tecnologie per il controllo dell'ambiente, le tecnologie domotiche, ha un approccio un po' più globale con molti di voi in qualche modo ci sono già stati contatti quindi so che l'approccio AAL è abbastanza conosciuto comunque per chi meno lo conoscesse si tratta di un approccio che in Europa sta avendo grande rilevanza perché? Perché ovviamente a livello europeo sono molto preoccupati non tanto in un certo senso dei problemi legati alla disabilità ma quanto dell'invecchiamento medio della popolazione quindi poterà avere sempre più persone anziane e questo in qualche modo viene associato a una condizione che contro una certa età diventa critica, ovviamente in generale a parte queste preoccupazioni tra le regolette sociopolitiche, il concetto importante però che sta alla base è molto importante direi quasi che si sposa molto bene con l'approccio ICF e quindi se diciamo che la disabilità è legata sia alla persona ma anche all'ambiente diventa interessante capire qual è il contributo dell'ambiente l'approccio AAL vedete proprio questo, quindi cercare di capire quanto l'ambiente invece di diventare uno stato come sappiamo che purtroppo spesso è, invece di diventare qualcosa di neutro nei casi migliori quanto riusciamo a farlo diventare qualcosa di curativo nell'aiutarci nella nostra vita quotidiana nella nostra vita quotidiana. E' un altro aspetto molto positivo dell'AAL che guarda in maniera molto ampia quindi non si concentra su singole disabilità, prendendo dentro il tema dell'età avanzata parla ovviamente di quelle che possono essere le tante piccole e grandi difficoltà che ognuno di voi in qualche modo può può avere. E questo è un po' quanto, colgo l'occasione anche per in qualche modo lanciare chi di voi lo sa già, alcuni forse non lo sanno ancora, è nata diciamo l'anno scorso un'associazione proprio per tutti coloro che possono essere interessati a questi temi, sapete che esistono già diversi gruppi di lavoro a livello italiano che si occupano in specifico di varie situazioni, di vari temi correlati quindi c'è per esempio l'associazione CLIC che riunisce tutti i centri e ausili italiani e che quindi si occupa molto appunto di ausili e di soluzioni legate alla disabilità ci sono altre associazioni che per esempio si occupano dei problemi legati alla teleassistenza la telemedicina, l'ICAL che è l'associazione italiana per l'ambito assisted living ha quindi un approccio semplicemente più generale nasce come un contenitore che serve soltanto in qualche modo per unire le forze e parlare infatti poi l'obiettivo è quello anche di sotturarsi in maniera molto leggera e su base regionale quindi chi poi fosse interessato qua sul tavolo sono presenti alcuni volantini brochure che spiegano in qualche modo qual è lo scopo dell'associazione in questo senso l'idea è quella di unire sia chi di noi oggi sul fronte tecnico, sanitario e sociale quindi tradizionalmente le professionalità che si occupano di questi temi ma anche gli utenti finali chi si occupa di policies e quant'altro, basta. Questo è un problema introduttivo io penso che il programma sia davvero molto ricco e interessante come dicevo prima, magari cerchiamo di, ci siamo scontrati un po' con questa destinazione al sabato che ovviamente ha scoraggiato un po' di persone, soprattutto alcuni professionisti ad essere presenti oggi ma questo ci dà l'occasione a mio parere di avere un evento molto interattivo quindi direi di ragionare sul fatto che può diventare anche molto interessante dialogare tra noi alcune delle persone presenti in sala le conosco, quindi so che si occupa relativamente di questi temi e quindi ci siamo messi d'accordo con i relatori di tenere abbastanza compatte le presentazioni e davvero vi assicuro ci sono molti temi che verranno lanciati dalle persone che parleranno quindi tendere a dare anche diverso spazio alle domande e comunque è un dialogo che può diventare interessante quindi non siate timidi e qualunque dubbio, qualunque cosa, cerchiamo di intavolare una sorta di dibattito visto che l'aula abbastanza piccola e il numero di persone presenti oggi non consente quindi cerchiamo di viverlo diretto con un valore Perfetto, quindi adesso lascio la parola all'ingegnere Matteo Imonchini è un collega, opera al centro regionale Ausili in passato abbiamo parlato tantissimo di domotica rivolta all'autonomia però per ognuno di noi che si è occupato concretamente di lavorare con gli utenti c'è un aspetto importante se volessimo dire un motto possiamo dire che è molto difficile creare autonomia in mancata di sicurezza cioè effettivamente noi possiamo creare delle situazioni di autonomia possibili per le persone in alcuni casi elevatissime però ci sono tutta una serie di situazioni che possono diventare veramente critiche e ora ovviamente l'autonomia non riguarda semplicemente, scusate la sicurezza non riguarda i vari tipi di disabilità, è un concetto molto generale e sotto l'ingegnere Imonchini appunto affronterà con questo aspetto generale il tema vi lascio un palazzo